C'è un po' di caltanissetta anche ai campionati europei di Paracanoa che si sono svolti a Monaco di Baviera. A tenere alto il vessillo del nostro territorio l'atleta Federico Mancarella, la cui famiglia è originaria di Campofranco, che ha conquistato l'oro nei 200 metri della specialità KL2. Mancarella si è imposto con una splendida prova sulle acque dell'Olympic Regatta, precedendo l'ucraino Mikola Siniuk che ha conquistato l'argento, mentre sul gradino più basso del podio è salito il britannico David Philipson. Mancarella attualmente vive a Bologna, dove si è trasferito da anni con la famiglia. L'atleta ha il suo primo oro internazionale e il primo italiano a centrare un risultato del genere nella disciplina paralimpica dei 200 metri del KL2 maschile. L'ultima giornata degli europei tedeschi ha reagistrato, oltre all'oro di Mancarella, anche l'affermazione di altri due atleti azzurri. Eleonora De Paulis ha centrato l'argento nei 200 metri del KL1 femminile e nella gara maschile della stessa specialità, appunto i 200 metri KL1, secondo posto anche per Esteban Farias.